Taglio del nastro per l'apertura del cantiere della nuova circonvallazione di Colleferro. Il presidente Nicola Zingaretti, l'assessore alla viabilità Marco Vincenzi e il sindaco della città Mario Cacciotti hanno dato il via ai lavori per la realizzazione del collegamento tra via Carpine Tana Nord e via Fontana dell'Oste, grazie al quale si potrà raggiungere via Casilina senza passare per il centro urbano di Colleferro. Il primo lotto di lavori riguarda la realizzazione di 500 metri di carreggiata e prevede un investimento pari a un milione di euro, per Zingaretti un'opera che porterà grandi benefici al traffico locale. Questi anni è crescita la presidenzialità, cioè Casil, e non in ugual modo ha investito sulle infrastrutture di aria e io dico anche sul ferro. Sul ferro l'importante ora è coinvolgere le ferrovie dello Stato, anche oltre che sull'alta dell'automità si investa sul vengolarismo e su strade noi ci siamo dati l'obiettivo intanto noi di fare il nostro dovere e poi anche qui di chiamare gli enti preposti a una maggiore collaborazione. Ci siamo battuti sui pedaggi che abbiamo vinto, ora ci batteremo perché ci siano soldi per fare asidene. ed Rendezvous